Camminavo in mezzo alla foresta quando ad una certa sento delle anvil che cadevano Ma che... Ma io potevo morire! Com'è possibile? Dove sono arrivate queste anvil? Ok, ok, tutto bene, tutto bene, sono ancora vivo, sono ancora perfettamente ok No, aspettate un attimo, ma questa cosa io non l'avevo vista Che diavolo... Ok, che caspita è? Vediamo un attimo No, ma che cos'è sta roba? È tutto tipo viola Oh santo! Ma che caspita! Cosa dovrebbe essere? Ma scusate, ma a me ricorda tipo la F No No, 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 non potete dirmi questo No, io mi rifiuto Io prendo dei... No, salto Ma che caspita! No, che cosa? No, 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 scusa No, 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 non posso andare raga Non posso andare, questo è un ascensore, diavolo No, 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 ti prego, voglio andarmene via Voglio... Hush No, in inglese vuol dire tipo... Tipo silenzio, una roba da... Chi si, lui è qui Fallo Don't Non farlo Che cosa... cosa dove fare, scusatemi? Che diavolo è sto posto? Ma... E ti pareva, no? Ti pareva che ci doveva essere qualcosa Avete presente? I mostri Nell'immaginario collettivo sono tutti nascosti nel buio Sono lì e ti spiano E quando meno te li aspetti Ti fanno fuori I mostri Sono però anche nel cuore di colui Che ha consapevolezza di essere vivo Io non so se esistono i mostri Ma so che esiste il nulla Che il mostro peggiore è più reale Che si avvicinano Si avvicina È come se fosse un'ombra Che non ti lascia mai È assurda questa cosa Boh, andiamo avanti Vediamo un attimo Che cosa c'è Sicuramente ci sarà di nuovo quella F schifosa E devo stare pronto Perché Qua se no Mi prendo l'infarto Senza Cioè È abbastanza normale Ci sia la F Perché L'abbiamo vista prima Però non era una F Cioè Era brutta Eccola Eccola Lo sapevo Era lei Era palesemente lei Stupida F Che non sei altro Ecco Adesso mi è pure finito L'arma Adesso valla ad uccidere tu questa F Per poi finire sopra Per poi Certo Certo No sì sì ma Perché tanto non posso Non potevo craftarmi prima un'arma Prima che finisse Io in questi mondi Mi devo sempre craftare un'arma Accidenti a me Ecco Adesso sta per morire Per fortuna Bene Ok Sono su Vediamo se posso rompere Posso rompere Lasciate un sacco di like Per altri video come questi E iscrivetevi ovviamente Per non perderveli E iscrivetevi ovviamente